Poco a poco i ghiacci si ritirano, la vegetazione torna lussureggiante nelle regioni così liberate, gli animali di grossa taglia hanno lasciato il territorio. Oh, slam, slam, prendi. Oh, ma dico, non potevi farlo là fuori almeno? Scusa. Che lagna sei? E così nasce l'agricoltura. Oh! Oh! Presto, venite a vedere. Oh! I metodi si modernizzano. Oh! Guarda, guarda, ma è un'idea. E così ci si avvia verso l'agricoltura motorizzata. Passano i secoli e il medioevo dell'età della pietra o mesolitico cede il posto al neolitico, l'età della pietra levigata.